Ciao a tutti, io sono Chiara e bentornati sul mio canale. Prima cosa, non fate caso ai miei capelli che sono osceni ma sono andata al mare e non ho avuto il tempo di farmi la doccia, quindi sono ancora salata. Seconda cosa, questo video parlerà della mia host family perché mi avevate richiesto di tenervi aggiornati su quando mi arrivava e quindi sì, finalmente ho anche io la mia famiglia ospitante. L'ho saputo l'8 luglio, quindi in realtà è passato un po', però non sono riuscita a fare il video. Partiamo dal fatto che secondo me la web si mette d'accordo per darti alla famiglia nei momenti più improbabili. Infatti io sono stata mesi e mesi attaccata al cellulare sperando che ogni email fosse dalla parte della web, tipo strepitante. Oddio c'è un email? Ah, non è la mia host family. E praticamente alla fine l'email che tanto desideravo e aspettavo con ansia è arrivata nel momento in cui non me l'aspettavo. Infatti stavamo ritornando dalla Corsica perché sono stata in vacanza in Corsica e quindi niente, eravamo in un momento che tipo già impanicati perché cercavamo la macchina nella fila per prendere il traghetto e non riuscivamo a trovarla. E proprio in quel momento lì arriva l'email della web e tra l'altro l'ha vista prima mia madre che me. Infatti io ho fatto no mamma non lo guardare, non lo guardare, aspettami. E invece ha fatto no, troppo tardi. E quindi sì, l'ha visto prima lei. Però ero contenta che era comunque un momento che c'era tutta la mia famiglia così eravamo tutti insieme a sapere questa grande notizia. E praticamente andrò in Florida e sono felicissima di questo veramente. In una cittadina che si chiama Delray Beach che io sinceramente non avevo mai sentito però tipo degli amici la conoscevano, va bene. È 60.000 abitanti più o meno, quindi è abbastanza grande. e si trova nella costa est della Florida molto vicino al mare e 50 minuti da Miami è tipo sopra Miami e sono felicissima di andare lì perché sarò in una casa stupenda vicinissimo al mare. Praticamente la famiglia è composta solo in tre c'è la madre che si chiama Sherry e ha 52 anni il padre che si chiama John e ne ha 59 lei praticamente è la proprietaria di un'azienda di interior design quindi già questa cosa mi piace un sacco e poi lavora a casa che secondo me è fantastico perché almeno so che ci sarà sempre a casa e mentre lui è il proprietario di tipo una concessionaria di autocarri non ho capito molto bene tipo The Pet Store e niente, questi sono i loro lavori e hanno un figlio di 15 anni di nome Tyler e quindi sono felicissima e hanno anche un cane sì, bello perché io ho sempre voluto un animale domestico ma non posso averlo perché mio fratello è allergico sia ai gatti che ai cani e quindi sono felicissima che finalmente avrò un cane anche se non so ancora di che razza è e la casa è stupenda veramente bellissima perché tipo si trova vicino a un canale infatti proprio il posto preciso dove è la casa si chiama Gulf Stream perché comunque è tipo un golfo e niente, è circondata dall'acqua quindi però non del mare del golfo insomma del canale e hanno tipo un molo per la loro barca perché al padre ha scritto che gli piace tantissimo andare in barca quindi probabilmente hanno la loro barca personale tipo non vedo l'ora di andare in barca e hanno anche una piscina e wow e avrò una camera tutta mia non la condividerò con Tyler è cosa che ho sempre desiderato perché qui la condivido con mio fratello andrò in una scuola bellissima cioè tipo mi piace un sacco e è abbastanza vicina a casa relativamente vicina in senso tipo 10 minuti 15 minuti quindi comunque come lo faccio io adesso perché io per arrivare a scuola ci metto più o meno 15 minuti e è abbastanza grande perché anzi grande sì perché c'ha circa 2500 alunni la mascotte sono le eagles quindi le aquile e i colori sono il bianco e il verde quindi carino dai e niente la scuola mi ispira un sacco non vedo l'ora di andare lì e c'ha un sacco di club un sacco di materie un sacco di sport anche che la maggior parte non le ho capiti tipo i club o le materie molti non ho idea di che cosa siano ma fa niente cos'altro dire? ah le pecche le pecche di tutto questo perché per ora sembra tipo il posto perfetto tutto bellissimo le pecche sono che ah no prima un'altra cosa stupenda che io sono celiaca e quindi avevo comunque richiesto avrei preferito andare in una famiglia che o abbia un componente celiaco o comunque sa che cos'è la celiachia perché io comunque dovrò seguire la dieta senza glutine e praticamente loro non sono celiaci però il figlio comunque è intollerante al glutine che non è proprio la stessa cosa ma comunque mangia senza glutine è intollerante anche ad altre cose tipo i molluschi al lattosio quindi alla fine loro mangiano tutti senza glutine questo è veramente bellissimo per me anche per i miei genitori soprattutto perché erano in ansia che io andassi in un posto che non sapessero di cosa stessi parlando e anche lì comunque è una cittadina grande quindi senza glutine si trova ci sono un sacco di locali ho visto perché la mia paura era anche quella di finirlo in un paesino sperduto che poi non sapessi dove mangiare trovare cose senza glutine e magari avere una famiglia che non sapesse niente della celiachia invece mi è andata molto bene riguardo a questo punto di vista le pecche sono che il figlio non frequenterà la mia stessa scuola e questo mi dispiace un sacco perché andrà in una scuola privata e quindi questa è l'unica pecca che un po' mi scoccia però vabbè mi capitura lo stesso e altra cosa che un po' mi scoccia non lo so se è una cosa positiva o no è che comunque al mio arrivo loro non saranno presenti perché saranno in vacanza e praticamente io dovevo partire all'inizio il 2 agosto perché sì dovevo partire il 2 agosto ma non capivo perché perché loro comunque c'è la web ti manda il giorno in cui partirai il giorno in cui ritornerai anche se non l'hanno tutti però a me sì ritorno il 4 gennaio e poi le date che avrebbero preferito la famiglia e la famiglia aveva messo che avrebbero preferito che io arrivassi il 12 agosto quindi non capivo perché mi facevano partire il 2 agosto per arrivare lì il 9 e così da stare 4 giorni da sola perché loro non c'erano quindi dopo mi hanno spostato la data al 9 agosto e io pensavo che così al mio arrivo ci sarebbe stata la famiglia perché loro comunque hanno messo come data di preferenza del mio arrivo il 12 agosto invece poi ho scoperto che non saranno comunque presenti arriveranno il 27 agosto quindi molto più tardi di quanto mi aspettassi e starò prima in una welcome family si chiama così anche se ancora non ho idea di che famiglia sarà dove sarò non lo so di solito ti prende il local coordinator quando comunque la tua famiglia non c'è al tuo arrivo però ancora non mi hanno detto niente questa cosa un po' mi stressa perché non lo so comunque Delray Beach ho guardato è veramente una cittadina stupenda c'è tipo una altravera al mare che secondo me è fantastico perché io già guardavo il mare e facevo addio probabilmente non ti vedrò per sei mesi perché già mi ero rassegnata al fatto che sarebbe stato molto difficile trovare un posto con il mare invece sono vicinissima quasi quasi ci posso andare a piedi al mare quindi sì e poi ho scoperto che comunque il clima è caldissimo e io questo adoro perché avevo un po' paura di finire al freddo cioè non sarebbe stato così un grande problema finire al freddo però preferisco molto molto di più il caldo e sapere che lì sotto i 18 gradi non scende mai nemmeno a gennaio cioè praticamente loro fanno il bagno tutto l'anno è una cosa che mi piace troppo e soprattutto anche perché una cosa che avevo pensato è che se finiva in un posto caldo i vestiti pesano di meno i vestiti estivi pesano di meno perché già pensare di portare la tuta da sci il parca cioè praticamente avrebbe occupato tutta la valigia invece così queste magliettine molto leggere posso portare più cose questo è quello che ho pensato poi comunque lì ci sono tantissimi negozi tantissimi centri commerciali e quindi è bello anche la mia host mom cioè la mia host mother boh vabbè insomma mi ha detto che siamo vicinissimi a tantissimi negozi siamo vicini alla strada principale perché lì praticamente non c'è un vero e proprio centro come da noi che c'è una piazza però diciamo che c'è il corso principale che ci sono tutti i negozi tutte le cose così molto carine che si conclude al mare e quindi mi piace molto non vedo l'ora di andare e anzi mi hanno detto anche che hanno anche praticamente hanno una spiaggia privata quindi wow da che gli piace andarci nei weekend quindi bello che bello e poi inoltre che c'è la nonna che si chiama Nini che sta in un condominio proprio sul mare cioè che affaccia sul mare e ha detto che conoscerò anche lei che è comunque una persona molto dolce quindi si voglio conoscere anche la nonna Nini perché da come me l'ha descritta sembra veramente una persona carinissima e niente non vedo l'ora veramente non vedo l'ora a quanto ho capito sono molto ricchi perché si in effetti vivo in un quartiere che le case in vendita vicino costano tantissimo quindi si e mia madre è preoccupata del fatto che tipo mi possano portare in posti eleganti io non abbia niente da mettermi infatti in questi giorni sto facendo shopping un po' più elegante per poter mettermi qualcosa di più carino se dovessi andare in qualche posto carino là l'unica cosa è che non mi rispondono molto spesso quindi non ci ho parlato tantissimo spesso perché io ho inviato delle mail a cui si mi hanno risposto però un po' tardi cioè tipo dopo due giorni così poi ho provato a parlarci su Skype però non mi stanno calcolando molto e ancora non ho fatto Skype cioè la videochiamata parlate su Skype poi ho parlato in chat non la c'era una vespa che è passata aiuto e devo farci ancora la videochiamata perché comunque ho tantissime domande da fargli e poi vorrei vederli proprio in faccia perché finora ho parlato solo con la madre quindi non ho mai parlato col padre o col figlio che assolutamente conoscerò il figlio che ha 15 anni però tipo nessuno ha dei social quindi io l'ho stalkerata in maniera assurda veramente ho cercato il loro nome su internet ho cercato ovunque quindi un po' di informazioni le sono riuscite a trovare ho trovato delle loro foto tipo Tyler dovrebbe avere un canale YouTube una cosa del genere quindi ho visto un po' di video però era più piccolo quindi sono riuscita ad ottenere qualche foto però comunque non hanno Instagram non hanno Facebook anzi Sherry ce l'ha però è tipo lontanissimo non hanno Whatsapp però comunque cioè lo avevano e quindi sono riuscita a trovare due loro immagini le loro immagini del profilo però tipo l'ultimo accesso nel 2016 anzi no nel 2014 quindi penso che non lo usino molto le mie doti da stalker hanno dato risultati però se avessero avuto Instagram Snapchat forse le avrei trovati di più niente comunque sono felicissima del posto che mi è capitato veramente non potevo chiedere di meglio veramente cioè proprio bellissimo poi la Florida mi ha sempre ispirato tantissimo e anche il fatto che la Florida sia nello stesso parallelo meridiano adesso in questo momento non mi ricordo di New York è bellissimo perché io arriverò a New York ci passerò 4 giorni e poi dovrò andare a Palm Beach dove l'aeroporto e comunque non avrò il problema del fuso orario perché sarà la stessa ora quindi avrò avuto già 4 giorni per abituarmici e quindi almeno arriverò nella famiglia che anche se sarà la welcome family non sarò tipo morta per il jet lag perché c'è gente che va nello stato di Washington ad esempio che è dalla parte opposta e quindi tante tante ore comunque sono felice anche di essere nella East Coast perché comunque ci sono meno ore di differenza quindi sono solo 6 ore indietro che alla fine non è tantissimo ho calcolato anche che cioè comunque 6 ore indietro non sono tantissime quindi ci sono tantissimi orari con cui posso parlare con la mia famiglia qui con i miei amici quindi non vedo l'ora comunque per chi non lo sapesse io faccio solo 6 mesi quindi ritornerò il 4 di gennaio e alla fine sono contenta della mia data di ritorno perché all'inizio volevo fare il Natale lì e il Capodanno qui però penso che se mi faccio tutte belle le vacanze là è meglio almeno me la prendo più con calma perché altri ritornano tipo il 27 dicembre quindi vuol dire che fai il Natale poi devi partire e poi sei tipo all'aeroporto nel periodo di Natale e no meglio di no io me la prendo un po' più con comodo ritorno il 4 gennaio e faccio il Capodanno là e quindi sì sono felice anche di questo ebbene quindi tutto l'aggiornamento penso di aver detto tutto non mi viene in mente nient'altro già ha semplicemente gli interessi ad esempio che Tyler gli piace fare le foto dal drone questa è l'unica informazione che so di Tyler drone e fotografi quindi sì mi sa che ha un drone e alla madre invece gli piace nuotare e cucinare e al padre invece andare in barca il video finisce qui se avete domande per qualsiasi cosa che mi volete chiedere lasciatelo nei commenti e niente noi ci rivediamo nel prossimo video bye ciao 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 ciao